Riparte il progetto dell'Olimpia Basket Canicatì con nuove idee, nuove forze. Avete tenuto una riunione. Quali sono quest'anno le novità per il prossimo campionato? Sì, come hai detto tu, abbiamo avuto una riunione col rinnovo delle cariche per la prossima stagione. Abbiamo confermato un po' tutte le cariche e in più abbiamo anche programmato una realtà diversa rispetto a quelle passate. Abbiamo deciso di puntare sui giovani e quindi faremo una squadra, stiamo allestendo una squadra totalmente di giovani con l'innesto di un paio di atleti senior che ci tirano una mano sia dal punto di vista di esperienza sia dal punto di vista tecnico. Abbiamo affidato la guida tecnica a un coach esperto che ci sa lavorare molto sui giovani che è Giovanni Fillari. Giovanni Fillari che viene a Canicatì perché ha sposato il progetto, un progetto che come ha detto punta sui giovani ma c'è oggi ancora qui a Canicatì la voglia di fare basket da parte soprattutto dei più giovani, dei ragazzi? Sì, fare basket e fare sport più che altro con i giovani non è una cosa facile perché fino a una certa età vanno tranquillamente in balestra al palazzetto, poi se non hanno gli stimoli giusti, non sono seguiti in una maniera più corretta abbandonano il basket e fanno altro. Però noi abbiamo, come ho detto prima, puntato su Giovanni Fillari che penso che sia un elemento trainante per fare bene. Stiamo costruendo infatti tutto un settore giovanile in collaborazione con la Canicatì Sport di Canicatì, società che gestisce il palazzetto dello sport. Abbiamo già iniziato questo progetto l'anno scorso, abbiamo avuto una quarantina di bambini e quest'anno credo che andremo più in là e faremo anche delle squadre giovanili under 13, under 14 per fare bene nei campionati regionali. E naturalmente la Serie D? Sì, la Serie D è il pilastro di questa società, stiamo infatti programmando per fare le cose con calma però fatte bene. Non miriamo sicuramente a vincere il campionato ma a fare un anno di transizione però stiamo puntando molto sui giovani e non è una cosa facile, è una cosa che impiegherà del tempo che però ci darà delle grosse soddisfazioni. Grazie Grazie